Non rallenta la marcia scudetto il Napoli che si impone sul campo del Toro con un sonoro 4 a 0, ma da dore ancora una volta osimena. Con una doppietta il nigeriano sblocca il match al nono di testa su angolo e di fatto la mette in ghiaccio 51esimo con una zuccata che vale il 3 a 0. Il mezzo di rigore procurato è realizzato da Varaskelia, 35, dopo che i Granata avevano centrato un palo con Sanabria. Quando il gol di Nombelè, 68esimo, entra appena 3. 3. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao.